buongiorno a tutti siamo qua per la giornata internazionale della donna eh siamo ospiti della rivista Mediterranea e oggi intervisterò la dottoressa Giuseppina Tratta una psicologa e life coach buongiorno Giuseppina buongiorno buongiorno a tutti grazie per l'ospitalità è un piacere noi ci diamo del tu quindi io ti farò oggi delle domande che riguardano le donne si potrebbero dire e chiedere tantissime cose naturalmente in questa giornata importante sulle donne ma io ho deciso di dare un taglio particolare il titolo di questa intervista è non è un paese per donne sole perché io credo che sia davvero così e da molti punti di vista e che adesso cercheremo sia pur brevemente di sviscerare un po' comincio dunque come eh con la prima domanda e intanto eh vorrei parlare delle relazioni cominciamo con cominciamo da questo mondo delle relazioni ci tocca partiamo da qui eh trovi che per la tua esperienza con le tue pazienti eh le donne siano ancora alla ricerca del grande amore perseguono ancora questa aspettativa nella loro vita allora eh ci sono più punti di vista in relazione a questa a questa domanda perché ci sono donne che razionalmente hanno capito che il grande amore mh non può esistere perché perché non gli uomini sono tutti terribili perché la vita è complicata perché la mamma non ci ha insegnato che il papà è cattivo e insomma tutta una serie di cose per cui la donna se l'è messa via e il grande amore ciao poi c'è la donna che dice no io devo bastare dico io quindi non può di certo perseguire il grande amore e poi c'è la nostra anima più diciamo antica che eh cerca il grande amore e il mio mestiere è nel far capire alle donne che il loro grande amore devono essere loro stesse perché è fondamentale quando noi ci amiamo davvero tanto 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 allora siamo pronte davvero per il grande amore magari anche per un uomo o per una donna dipende eh da dalle nostre inclinazioni per cui quello sarebbe il il modo adatto pochissime persone si amano pochissime sia uomini che donne è un problema condiviso dunque parte tutto da qui secondo te perché le donne sembrano essere più insoddisfatte rispetto agli uomini mediamente delle relazioni perché le donne sono più attente noi siamo veramente multitasking per cui ci accorgiamo di tutto tutto anche tutto quello che non c'è e siamo programmate per fare dieci cose in contemporanea e tu me le insegni benissimo per cui eh capisce che l'uomo fa una cosa forse due per cui se 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 ne manca una non si sente non si sente deprivato di qualcosa noi facciamo dieci cose se ne mancano sette eh le aspettative vengono deluse e quindi nella relazione diciamo allora questo l'ha fatto questo l'ha fatto questo no questo no questo no questo no questo no è siamo è la natura che ci ha programmato così noi siamo state programmate per percepire la variazione di tonalità di un vagito e quindi chiaramente abbiamo un grado di attenzione che è strabiliante l'uomo è stato programmato per tirare una freccia per cui è tutto un altro tipo di diciamo impostazione mi taglieranno le gomme della macchina sicuramente non dire mai a nessuno è un segreto dove abito esatto la società tende sempre di più verso un modello unifamiliare pensi che per le donne ci siano le condizioni economiche almeno in questo paese per affrontare la vita da sole assolutamente no c'è un divario ancora almeno del 30 per cento tra i salari maschili e femminili oltre al fatto che il welfare in italia è tutto sopportato dalla donna per cui è impossibile per una donna almeno nella mia a meno che sia molto ricca ma altrimenti per noi femminucole normale è abbastanza complicato riuscire a fare collimare i costi della vita moderna e anche i tempi della vita moderna con con il fatto di avere una famiglia un figlio o più figli è veramente io ho donne separate conosco donne separate vengono vengono da me e fanno delle vite impossibili veramente riescono fanno i giochi di prestigio per riuscire a sopportare fra famiglia e lavoro pensi che le donne siano maggiormente in grado di affrontare la solitudine rispetto agli uomini diciamo che sono decisamente più attrezzate nel senso che le donne si arrangiano a fare tutto e quindi bastano a se stesse soprattutto dai 40 anni in su nei 40 anni in su diventa tutto molto più più lineare anche se gli ormoni impazziscono questa è un'altra storia e quindi però sì certamente l'uomo non riesce a stare da solo ma anche perché adesso stanno cominciando ad imparare un pochino ad arrangiarsi però l'uomo italiano soprattutto che ha avuto la mamma italiana chioccia e accudente non è in grado di rimanere da sola e questo viene percepito anche come solitudine proprio come stato la donna comunque ha molta più capacità di creare relazioni con le donne quindi si crea una rete di alleanze importantissima l'energia femminile energia della sorellanza e salvifica gli uomini non hanno questa capacità loro hanno un amico forse noi riusciamo a creare delle cose che voi umani è un po controversa questa tua affermazione nel senso che spesso invece si dice il contrario ossia che le donne fra di loro non siano molto solidali piuttosto che gli uomini quindi non sono non sono solidali con le concorrenti per cui la concorrente professionalmente la donna più bella oppure la ma e quando c'è il gruppo amicale invece sono molto 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 solidali tra di loro e quindi è una forza potentissima le donne si aiutano gli uomini non sanno come fare perché tra di loro non hanno gli strumenti per farlo non è vista come una debolezza la donna non è vista come una debolezza e quindi non so fanno ore al telefono con l'amica piangendo un uomo non potrebbe mai fare ora con l'amico al telefono piangendo cioè si sentirebbe svalutato quindi forse potremmo dire che questa minore intelligenza emotiva diciamo così o minore capacità introspettiva e di entrare in contatto profondo con le proprie emozioni può essere anche uno una delle ragioni per cui gli uomini affrontano in maniera più difficoltosa la fine delle relazioni con allora delle conseguenze insomma eh piuttosto piuttosto gravi non affrontiamo questo tema che eventualmente affronteremo un'altra molto interessante perché è molto interessante quello che sta succedendo è legato al cambiamento proprio della posizione della donna e al ai ruoli ai giochi che si creano tra uomo e donna nei frangenti in cui eh l'uomo poi perde il controllo e ha reazioni molto molto violente già credo che sarebbe interessante dedicare un lo faremo uno spazio apposito lo faremo se ti andrà oggi però è una giornata particolare perché alleggeriamo decisamente non nasce certo da presupposti sereni cerchiamo di fare in modo che sia una giornata celebrativa della figura femminile uno degli ostacoli a una vita indipendente per la donna è la sicurezza nelle città le nostre città non sono a misura di donna a questo proposito vorrei raccontare un piccolo episodio che mi è successo ieri perché ero un po distratta e stavo in treno e mi sono dimenticata di scendere alla mia fermata per cui ho proseguito e sono scesa in una stazione deserta una stazione marittima deserta e scendevo insieme ad altre due donne quando sono uscita nel piazzale aspettandomi dei taxi che avrei potuto prendere per tornare indietro e raggiungere la mia stazione ho visto che non c'erano taxi non c'erano autobus non c'era un bar non c'era nulla era veramente certo allora io ho avuto un po di inquietudine e ho cominciato ad attaccare bottone con le altre due donne convincendole a farmi compagnia per un po fino ad aspettare il treno successivo che mi avrebbe portato dietro e ma dovevo aspettare quasi un'ora e loro sono state molto gentili con me mi hanno fatto compagnia e lì forse appunto quello che tu dicevi le donne sanno anche in determinati momenti venirsi incontro e aiutarsi abbiamo chiacchierato tanto e al fondo della sala d'aspetto della stazione c'era un senza tetto che ci guardava da lontano a un certo punto le due donne dovevano andare via e mi hanno affidato a lui o poi ho chiacchierato con lui è stato uno degli incontri più belli degli ultimi anni e lo racconto perché sono ancora molto colpita da questa da questa interazione umana che mi ha veramente insegnato tanto però ecco per dire che effettivamente noi donne io poi viaggio molto e spesso in alcune città evito di uscire da sola la sera magari mi andrebbe di fare due passi sul tardi o di andare in un locale ma non lo faccio perché io credo che una donna da sola in una grande città si guardi un po' le spalle e cosa ne pensi? ma io sono d'accordo sull'idea che le nostre città non siano a misura di essere umano non tanto di donne anche gli uomini a meno che siano armati altrimenti le donne si stanno attrezzando e si stanno stanno facendo corsi di kraft maga ci sono quegli spray tremendi si stanno attrezzando perché conoscendo la loro fragilità fisica si sono un pochino attrezzate dobbiamo guardarci davvero le spalle in famiglia lì lì vengono perpetrate ancora le violenze peggiori e non c'è difesa non c'è difesa non c'è stato non c'è lo stato proprio denunci dai carabinieri non succede niente so che quello che dico adesso è poco carino però nelle città sappiamo cosa al buio so cosa aspettarmi cioè sto allerta e invece le cose più tremende non succedono al buio anche perché come dici tu non si esce proprio così volentieri per andare in un locale o per ci si guarda ci si sta attenti invece in casa ci si comporta con fiducia e questa fiducia viene spesso tradita troppo spesso tradita dici una cosa molto importante perché poi le statistiche dicono che le aggressioni le violenze contro le donne accadono appunto entro le mura domestiche e questo è tra l'altro ci pensiamo è davvero tragico a proposito di ciò che hai detto mi sono ricordata che una delle due donne ieri mi diceva ma sì bisogna attrezzarsi bisogna comunque avere più coraggio non rinunciare ad uscire ma fare tutto quello che ci va con più coraggio e diceva se c'è da assestare anche un bel calcio ad un uomo io questo lo trovo molto femminile bisogna forse rivedere i modelli di femminilità in certe situazioni sì d'accordo non possiamo più aspettare che arrivi qualcuno a salvarci esatto noi ci salviamo da sole comunque quindi e l'abbiamo dimostrato più e più volte perché facciamo cose che gli uomini non potranno fare mai noi siamo molto più vicini all'essenza di Dio che gli uomini perché noi facciamo cose che altri non possono fare loro non possono fare quindi però sarebbe un importante passaggio di civiltà questo di una donna possa girare liberamente di sera di notte per una città e sentirsi tranquilla di farlo beh ma fino a quando ci sarà una società retograda che ritiene che le donne che vanno in giro da sole sono delle svergognate per cui possono essere maltrattate capisci che è difficile che si vada avanti però è il rispetto del problema hai la vera ragione su questo pensi che siamo concretamente in un cammino di parità che possa permettere in breve tempo per esempio di sanare il divario salariale di cui parlavi e le possibilità di carriera per esempio tra uomini e donne secondo me sono due argomenti diversi perché il salario molto probabilmente verrà livellato livellato anche perché ci saranno delle leggi che lo stabiliranno insomma penso che sia assolutamente fuori legge considerare un uomo una donna diversi per il sesso sul posto di lavoro però allo stesso tempo la carriera sarà sempre diversa per gli uomini e le donne fino a che sarà la donna che deve supportare tutte le incombenze familiari cioè come fa un direttore generale di una multinazionale ad avere un bambino da portare a tennis dal pediatra dal dentista il papà che deve andare a fare la visita e non guida più la mamma che ha le paturnie eccetera e questo lo porta avanti tutto la donna per cui come può concentrarsi su un argomento anzi in realtà la donna potrebbe anche farlo diciamo che chi deve destinare questi luoghi di lavoro non si fida della possibilità che la donna possa essere concentrata è assolutamente assurdo perché noi possiamo benissimo concentrarci anche a compartimenti stagni facciamo le mamme per dieci minuti le figlie, le mogli e poi i dirigenti senza nessun problema proprio perché abbiamo imparato a convivere con tante emozioni contemporaneamente senza morire però questa cosa non è ancora stata apprezzata comincia adesso è iniziato il cammino forse viene dato per scontata forse viene dato per scontato che le donne riescono a fare tante cose tutte insieme e si pretende da loro quindi sempre il massimo con pochi riconoscimenti e gratificazioni in realtà però anche alle donne non viene in mente di delegare io lo vedo con i miei pazienti io dico scusa perché devi andare tu io sono molto maschile da quel punto di vista se una cosa non mi compete non la faccio però invece le mie signore che sono molto molto donne e loro fanno tutto loro e dico ma perché? perché forse decidiamo degli uomini sì ecco è una cosa reciproca gli uomini non si fidano alle donne e le donne non si fidano degli uomini ma poi è così cioè se il bambino è malato in questo periodo di covid folle quando i bambini erano in dad chi rimaneva a casa dal lavoro? le mamme perché? il perché appunto è un problema culturale che bisogna assolutamente è un problema culturale grossissimo deve partire comunque dal sono pochissime le aziende così avanti dal dare la possibilità anche ai maschi di fare quello che fanno le femmine maschi e femmine fa un po' ridere suona molto come asilo però mi sono spiegata ti è spiegata molto bene però soltanto in un paese evoluto quindi fra moltissimi anni probabilmente noi potremmo smettere di parlare di uomini e donne e ragionare in termini di individui e di persone ma finché il gap non è sanato dobbiamo necessariamente portare avanti la causa femminile è necessario finché non diciamo che le ragazze dai 15, 20, 22 anni non sentono minimamente questo bisogno di occuparsi di sono molto cioè se lo fai tu lo faccio anch'io se non lo fai tu io non lo faccio sono molto più segno evidente che le cose stanno cambiando quindi possiamo essere ottimisti riguardo alle nuove generazioni bisogna bloccarsi e non fare bisogna smettere di fare e delegare un po' di più hai ragione decisamente vorrei lasciarti con un'ultima domanda c'è molto cammino da fare abbiamo detto in termini economici in termini di sicurezza verso la parità però vorrei guardare ancora molto più avanti e appena toccare un tema che considero molto spinoso quasi un tabù perché vorremmo pensare che sia ormai sdoganata la tematica della coppia omosessuale perché mi sembra evidente e spero che è accettato che anche due uomini o due donne possano crescere benissimo un bambino felice piuttosto che talvolta invece una fantomatica coppia tradizionale che invece nasconde in seno invece delle problematiche molto gravi che impediscono la serenità dei figli molto spesso però voglio guardare avanti perché il mio tema di oggi è non è un paese per donne sole parlo in particolare delle single come la vedi la tematica dell'adozione per le single ma vorrei dire anche in generale per i single è una tematica secondo me anche questa è una vera battaglia di civiltà che però ancora non si fa in Italia se ne parla pochissimo ma credo che soltanto un paese molto evoluto dal punto di vista sociale possa parlare di adozione per i single vedremo questo giorno in Italia? io me lo auguro ma non so se sarò se vivrò abbastanza lungo per riuscire a vederlo perché è così complicata l'adozione in Italia a prescindere dal che mi sembra veramente un sogno l'adozione per i single anche se ormai siamo in grado di sopperire a quelli che sono i bisogni di un bambino la pedagogia ci ha insegnato moltissimo la psicologia anche però siamo in uno stato così farraginoso dal punto di vista burocratico e anche le persone predisposte per la verifica dei casi eccetera non sono ancora così preparate da poter essere obiettive c'è ancora tantissima approssimazione in questo argomento e troppa troppa burocrazia e quindi ci vogliono 4-5 anni per una coppia regolare come la chiamano loro figuriamoci per un single che è comunque la prima domanda è se tu non stai bene chi tiene il bambino? non lo so però se quelli li si ammazzano magari il bambino ha qualche trauma e se lo porta dietro esattamente ci fermiamo qua per oggi ma se sei d'accordo non è finita qui con te assolutamente certo mi piace la tua minaccia è una speranza è un'opportunità volentierissimo volentierissimo spero di non avervi annoiato troppo perché quando divento un po' pedante quando no hai detto delle cose estremamente interessanti abbiamo gettato qualche semino a mio parere su cui speriamo speriamo per cui concludiamo qua dicendo semplicemente viva le donne ci vediamo la prossima volta grazie mille e ciao a tutti grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille